Reggio Calabria 16 ottobre 2018. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari al sindaco di Riace Domenico Lucano, sostituendoli con la misura del divieto di dimora a Riace. La decisione è stata depositata stasera. La Procura di Locri aveva chiesto invece un aggravamento delle contestazioni mosse al sindaco, ora sospeso di Riace. Il GIP di Locri, infatti nella sua ordinanza di custodia cautelare, ha contestato i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, lasciando cadere le accuse più gravi mosse dai PM, associazione a delinquere, concussione, truffa gravata, abuso e malversazione. Oggi, all'uscita dal Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, dopo l'udienza del Tribunale del Riesame che doveva decidere sul suo caso, Lucano aveva affermato che il modello Riace non si fermerà e andrà avanti, anche senza i finanziamenti pubblici. Insomma, Lucano non intende far morire l'esperienza avviata nel piccolo paese della Locride, assurdo agli onori internazionali come modello di accoglienza ed integrazione. Riace, ha detto il sindaco all'uscita dell'aula, rappresenta un'idea che va contro la civiltà della barbarie. Anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli, perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza. La chiusura dello Sprar, decisa dal Ministero dell'Interno e la conseguente possibilità che i migranti che vivono a Riace, alcuni da anni, se ne possano andare, non lo spaventa. Anzi, rivendica lui la chiusura dello Sprar. Voglio trasmettere questo messaggio, dice al governo. Vogliamo uscire dallo Sprar. Lo voglio io come volontà politica. Non voglio avere a che fare con chi non ha fiducia e con questo governo che spesso non rispetta i diritti umani. Su come andare avanti senza i soldi del Viminale, Lucano, un'idea c'era già. Si tratta appunto di puntare sui laboratori artigiani avviati in questi anni dai migranti che si sono stabiliti in paese e sul frantoio. Rendere produttive in definitiva le attività di un borgo ormai conosciuto in tutto il mondo. In sintesi, spiega Lucano, fare un'accoglienza spontanea, così come era cominciata nel 1998 con lo sbarco di 200 profughi dal Kurdistan. Dall'ora Riace non è più solo il paese dei bronzi, ma anche quello dell'accoglienza e di Lucano, inserito due anni fa dalla rivista americana Fortune al quarantesimo posto della classifica dei 50 leader più influenti del mondo. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato dunque gli arresti domiciliari al sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, sostituendolo con la misura di divieto di dimora a Riace. Il provvedimento è stato notificato qualche minuto fa a Mimo Lucano e alla sua compagna Tesfahumlemlem. Nei confronti di quest'ultima invece il divieto di dimora che le era stato disposto dal GIP di Locri è stato sostituito con l'obbligo di firma. Da Reggio Calabria, Larciere Luigi Palamara.